Buonasera Sirichi del Melee, la vittoria è caldo, cosa dici? Buonasera, siamo felici perché abbiamo vinto E secondo te meriti più posto in squadra? Secondo te minutaggio per l'allenatore? Sì Meriti più minutaggio quindi? Quindi c'è la parte di modestia per Sirichi del Melee, c'è un po' di modestia E dimmi una cosa, sei il capo cannoniere, cosa ne pensi di questi gol? Sì, questi gol che ho segnato A chi li dedichi? A mia madre A tua madre, dedica questi gol alla sua mamma? Sì Da Vila a San Filippo è tutto, ciao! Ciao!